Loro rappresenteranno una divinità che si chiama Shun, che è la dea dell'amore. E come diceva la Presidente, questa danza fa sì che loro riscoprano una femminilità un po' perduta nella gestualità, nel trucco, nel costume. E l'amore al centro di Balliamo con la vita, la manifestazione è giunta alla terza edizione che torna venerdì prossimo alle 20.30 al Teatro Carlo Gesualdo. Un progetto che nasce dall'impegno e dalla passione della dottoressa Annalisa Stanco, del maestro di danze afrocubane Mario Cesa e di Maria Rosario Ingenito, presidente dell'associazione Amos di Solofra. Sul palco saliranno otto malate oncologiche perché il ballo è positività e rinascita. La danza ti libera, ti fa viaggiare con la mente e poi magari è il sogno che noi tenevamo da bambini essere tutte ballerine e poi dopo in età lo riprendiamo. Questo progetto ha fatto sognare a queste donne e noi lo facciamo con loro. Ma tu balli o non balli il 26 maggio? No, il 26 maggio no, non ballo perché abbiamo organizzato e preso da tante cose non ballo. Però sono comunque con loro a scuola di ballo da tanti anni, però ci siamo fermati per questo progetto. Allora maestro Mario Cesa, questo è un progetto che regala sempre grandi emozioni, tu dai ma penso che ricevi molto di più dalle pazienti oncologiche che hanno partecipato conti al corso e che saliranno sul palco qui del Teatro Gesuale. Sicuramente, ho dato tanto ma ho ricevuto pure tantissimo perché è un progetto che mi dà molta soddisfazione perché è molto difficile. Mi hanno tirato in ballo la Presidente da ex ballerina e la dottoressa psico-oncologa Annalisa Sanco, quindi sono veramente contento di aver realizzato questo spettacolo. Vi comunico che il teatro è pieno, la platea è piena, quindi siamo arrivati a un buon punto. Però c'è ancora qualche biglietto in galleria, quindi si possono ancora acquistare. Dove si acquistano i biglietti? I biglietti, noi siamo al centro danza di Atripalda, la Gym Fit di Elena Capozzi, siamo là tutti i giorni, quindi uno può venire in palestra e prendere il biglietto e dare un contributo perché è tutto in beneficenza, giusto Presidente? Da tanti ospiti della serata, dicene qualcuno perché insomma sono anche ballerine importanti a livello internazionale. Allora, ti dico qualche nome ma non ti dico, anzi non ti dico neanche i nomi, sarà una sorpresa, una sorpresa perché Gio Saveriano che è il nostro regista ha curato tutto nei minimi particolari. Sì, noi ogni anno ci affidiamo a lui, a parte che fa parte, viene a ballare con noi, è un nostro amico, ma ogni anno ci affidiamo a lui e affidiamo proprio a lui quella parte teatrale dove l'emozione è fortissima. Però una curiosità me la puoi svelare, chi sarà il presentatore? Questa sì, allora il presentatore come dal primo anno sarà Gianni Novella che è proprio presentatore di Salerno, anche lui paziente oncologico, segue con noi da anni questo progetto e quindi siamo liete di averlo con noi, lo aspettiamo a braccia aperte. Non vediamo l'ora, ormai ci manca pochissimo e siamo tutti adrenalinici, ansiosi, emozionati. E emoziona tanto, tanto, tanto. Perché poi insomma il Gesualdo regala emozioni, no? Ma guarda, il Gesualdo è una cornice, le emozioni che stiamo ricevendo adesso, giorno per giorno, che è quasi insomma terminato il tempo, ce le danno le signore. Stiamo vivendo in questi giorni allora il trucco, come deve essere il trucco, immagina tu che queste donne non si truccano anche da tanto. Quindi anche pensare a rispecchiarsi, guardarsi nello specchio, scegliere il colore, è tanto. Poi loro ti rendono partecipi di tutto questo. Poi c'è Fatima Iovino che si sta interessando, è la nostra stilista, costumista. Ci sono tante persone coinvolte. Sì, ma questo è un progetto dove io, Mario e Annalisa, che adesso ha partorito da poco, ecco perché non è qui con noi, siamo gli organizzatori principali, ma poi ci sono tante piccole, tante persone che ci aiutano, come per esempio Fatima che si è occupata di tutti i vestiti che vedrete, si è occupata lei. Maestro, prima mi dicevi non saranno balli semplici, cioè sono balli anche particolari, impegnativi. No, noi trattiamo solo il repertorio cubano, quindi anche le ragazze fanno dei balli di una certa difficoltà, soprattutto nelle danze afro-cubane. Loro rappresenteranno una divinità che si chiama Shun, che è la dea dell'amore. E come diceva la Presidente, questa danza fa sì che loro riscoprano una femminilità un po' perduta, ecco, nella gestualità, nel trucco, nel costume. Ed è quello che ha fatto sì che lo spettacolo sia di un certo livello. E poi abbiamo anche un'artista cubana dove canterà dal vivo un brano famosissimo di Celia Cruz, Guantanamera, che conoscono tutti. E le ragazze ballano su un pezzo live, quindi è uno spettacolo degno di nota. Tanti gli ospiti della serata, i cui proventi andranno a Lamos, da Katia Lopez, ballerina professionista cubana, la cantante Rita Lamberti, fino a Gennaro e Giuseppe Saveriano, che ha curato la regia dell'evento. Mi hanno coinvolto di nuovo in questo spettacolo. L'importante è che si era fermato nel 2019 con una valigia in mano, perché la valigia un po' racconta il sogno. Quella valigia aperta che non si chiude mai e si riapre sempre con delle sorprese, ballando con la vita, perché poi la vita è prima un cammino e poi un ballo. E in questa danza meravigliosa ci sarà qualcosa che forse proprio dalla luna piena arriverà. Cosa che posso dire invece in pienezza di verità è che sicuramente sarà presentata la verità di questo spettacolo. E ci saranno anche due ospiti, che noi abbiamo avuto l'opportunità, Erika Occhio Nero, che è una grande danzatrice al volo. Dico soltanto questa cosa, lei a 16 anni ha rinunciato per un incidente, ha lasciato il mondo della danza ed è diventata forse la più grande danzatrice al volo in Italia. Ha conosciuto in un programma a televisione, non posso spoilerare perché è stato proprio qui, al Teatro Carlo Gesualdo. Quindi le coincidenze belle della vita. E un'altra ragazza che noi abbiamo conosciuto alla scuola di Lello Arena, del progetto di Lello Arena De Caro, che praticamente è una grande artista di strada, Rita Lamberti. Rita, due settimane fa, è stata ospite di NEC dalla strada al palco. Dalla strada al palco, quindi al palco di NEC, è un palco importante. Gesualdo. Chiuderai questo spettacolo, Gennaro Saveriano? Sì, io solitamente sono all'inizio e alla fine. Non rimango più nel mezzo, però voglio rimanere alla fine dello spettacolo per guardarlo tutto, perché sarò come loro partecipe di questo spettacolo, ma sarò anche un ospite, un ospite particolare dietro le quinte, che poi apparirà, non so quando, non so come, per fare una cosuccia. Lo scoprirai. Lo scoprirò pure io facendolo, però devo dire che è stato saggio quello che ha detto, ma non è proprio un saggio, è uno spettacolo questo qua. Sì, in realtà è un recital musical varietà dove c'è un po' di tutto. Ovviamente ringraziamo anche la città, che ospita il tutto, come sempre ringraziamo anche... Eccomi qua, eccomi qua. Sono tornata per i ringraziamenti, per dire che aspettiamo, innanzitutto aspettiamo tutti, è un bellissimo spettacolo, vi divertirete, oltre che grandissime emozioni. Vogliamo ringraziare il sindaco Gianluca Festo per averci dato una grande mano per questo spettacolo e tutti gli altri sindaci che verranno, che ci hanno promesso di venire, che ci appoggiano e a loro, a Mario, a D'Annalisa, a te, a tutti, grazie. E allora, appuntamento 26 maggio, 20 e 30, Teatro Carlo Gesualdo. Grazie, grazie, vi aspettiamo. Con la luna piena. Grazie.